gentili amici di tg plus ben ritrovati e con grande piacere do il bentornato al sindaco rieletto di ponte di piave paola roma buongiorno 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 a tutti e grazie per l'opportunità allora con gratulazioni sindaco per questa rielezione la proclamazione ufficiale già venuta lunedì sera al termine dello spoglio adesso ricapitoliamo un attimo per il nostro pubblico che cosa succede nei prossimi giorni intanto vorrei ringraziare i cittadini di ponte di piave negrisia levada busco san nicolò per aver ridato fiducia alla nostra amministrazione in questo terzo mandato che non era previsto e quindi siamo diciamo con la novità rispetto alla norma che ha consentito questo terzo mandato e che ci permette di concludere le opere e tra le altre cose in questi in questo periodo proprio è stata è avvenuta poi la convalida degli eletti proprio nella data odierna in cui ogni consigliere comunale perché ora sono tutti i consiglieri comunali sia di maggioranza che di minoranza hanno ricevuto chiaramente l'attestazione ed ora ci sarà poi il primo consiglio comunale io voglio ringraziare i cittadini perché hanno dato l'opportunità nella mia squadra vivi ponte sia le persone di esperienza che anche le nuove energie quindi questi nuovi giovani che sono entrati nella compagine del consiglio comunale ringrazio gli elettori perché hanno dato fiducia anche a questi giovani dall'altra parte il risultato elettorale è stato molto importante un dato più significativo rispetto a cinque anni fa assolutamente il 61 virgola 14 per cento e questo davvero ci fa onore soprattutto ci stimola a lavorare ancora di più quindi oltre all'h24 al 7 su 7 365 giorni l'anno ci stimola a non perdere mai nessuna opportunità nei confronti dei nostri cittadini che ci hanno comunque riconfermato con un largo consenso e dall'altra parte ci hanno permesso ovviamente di dare eh continuità a quello che andremo a concludere in questo periodo e quindi all'inaugurazione della pista di atletica di cui ci siamo aggiudicati quarti in italia con il bando sport e periferie con 470 mila euro di contributo del ministero dello sport su un con una un'opera complessiva di 700 mila euro e dall'altra restauro conservativo del cinema luxo grazie al contributo per intero quindi a costo zero per i cittadini dato dal ministero delle infrastrutture dei trasporti e dei beni culturali che verrà appunto realizzato dal provveditore delle opere pubbliche del Veneto che ha sede appunto a Venezia e dall'altra parte ci permette di utilizzare 590 mila euro di avanzo di amministrazione per poterlo utilizzare naturalmente per manutenzioni nelle scuole di cui andremo poi ad impinguare i capitoli immediatamente per appunto continuare i punti luce quindi tutti quei punti luce che hanno già previsti in base all'elenco e anche a una nuova viabilità legata a una rotatoria proprio grazie a un bando a cui abbiamo partecipato e di cui c'è stata finanziata da parte del ministero la progettazione e si tratta proprio di via chiodo nella frazione di levada di ponte di piave poi continuare tutte le manutenzioni che avevamo in cantiere incluse anche le asfaltature e dall'altra parte voglio anche ricordare che i cittadini ci hanno premiato perché per dieci anni non abbiamo aumentato a loro le tasse quindi la fiscalità e vogliamo continuarlo a fare anche in questi ulteriori cinque anni di cui ringrazio nuovamente i cittadini per averci dato la fiducia proprio perché sappiamo perfettamente le fragilità in cui si trovano non solo le persone fragili e quindi gli anziani ma anche le famiglie rispetto alla situazione esistente non abbiamo contratto dei mutui e naturalmente abbiamo partecipato a tantissimi bandi di cui adesso stiamo attendendo l'esito per avere anche quegli ulteriori finanziamenti e nuovamente voglio ringraziare i cittadini proprio perché c'è stato un lavoro di squadra non solo del capoluogo ma delle frazioni insieme e che è stato capito anche rispetto alle nuove energie che sono state messe in campo ma anche i veterani che vanno a riconfermare un'amministrazione di dieci anni che ha lavorato a testa bassa e ha cercato di portare a casa dei contributi. Sindaco la squadra dei nuovi assessori verrà presentata da lei nel corso del primo Consiglio Comunale giusto? Esattamente che avrà luogo appunto entro la fine di questo mese come previsto dalle norme noi abbiamo dieci giorni per convocare il Consiglio Comunale e nei dieci giorni successivi naturalmente andrò a nominare gli assessori e i consiglieri con delega perché nella scorsa amministrazione abbiamo modificato lo Statuto Comunale permettendo anche ai consiglieri di avere delle deleghe è stato uno strumento molto importante che mi ha permesso di far lavorare tutti quanti i consiglieri anche quei consiglieri che naturalmente non avevano l'incarico di assessore ma del quale voglio naturalmente utilizzare questa opportunità che ho data anche perché è un gruppo compatto coeso appunto dicevo di esperienza e di rinnovate energie e quindi credo che naturalmente per Ponte di Piave saranno sicuramente pronti per lavorare come stanno già facendo in questi giorni cercando di farlo in maniera da consiglieri comunali e li stanno naturalmente aiutando proprio per permettere con celerità di poter attivare anche poi le successive deleghe. Il suo in virtù anche della posizione geografica è un territorio sicuramente molto strategico. È un territorio strategico perché si trova tra la destra e la sinistra Piave ci colleghiamo con il ponte che è a metà tra Ponte di Piave e San Biagio di Callata ma anche con tutta l'area del Veneziano che voglio dire afferisce poi qui da noi e voglio ricordare anche tutta la parte dello Peter Giro Mottense e quindi della sinistra Piave. È un territorio strategico con 8.400 abitanti, 3.700 famiglie circa che ha naturalmente questa situazione del fiume Piave nel quale chiaramente anche su questo vogliamo continuare a dare avanti con l'osservatorio dei cittadini e siamo stati i primi ad aderire grazie all'attività dell'autorità di Bacino e della regione del Veneto. Benissimo. Senta il sindaco abbiamo detto tutto e io le rinnovo ancora i miei complimenti per questa importante riconferma ma soprattutto auguro a lei e a quella che sarà la sua nascitura squadra di amministratori buon lavoro perché come ha sintetizzato Pocanti tanto è stato fatto e tanto c'è da fare. Certamente con il massimo impegno che abbiamo sempre garantito a tutti i ponte piavensi. Grazie a lei per l'opportunità. Grazie a tutti.